Per la Puglia l'Agrilevante, quali sono le novità di quest'anno? Agrilevante è per l'appunto la fiera internazionale delle tecnologie per le filiere agricole e agroalimentari. È un appuntamento che negli anni ha acquisito un'importanza sempre maggiore. L'idea vincente che è all'origine di questa iniziativa è proprio quella di scorporare la parte agricola dalla fiera a Campionale del Levante per farne oggetto di un evento a sé stanno. Abbiamo puntato come Federuna Coma, cioè Federazione dei Costruttori di Macchine Agricole che è organizzatore diretto di questa manifestazione in collaborazione con l'antiferistico del Levante, abbiamo puntato su due elementi. Primo la internazionalità di questa rassegna e secondo la sua alta specializzazione. Di fatto un operatore agricolo può trovare ad Agri Levante davvero tutte le innovazioni tecnologiche più avanzate, adatte per le agricolture specifiche del Mediterraneo. Abbiamo organizzato delegazioni di operatori esteri in collaborazione con l'Ice, verranno da 50 paesi proprio per trattare partite di macchinario adatte alle realtà dell'Africa settentrionale, dei Balcani, dell'Europa meridionale e anche del Medio Oriente. Quali macchine ad alto contenuto tecnologico possiamo ammirare in questa edizione per esempio? In realtà le macchine agricole presenti ad Agri Levante sono tutte di alto contenuto tecnologico perché sono proprio le macchine di nuova generazione. Questa è una fiera aperta non ai rivenditori quanto alle aziende costruttrici, le case magiche che quindi hanno tutto l'interesse a presentare il top di gamma. Abbiamo trattori con sistemi computerizzati molto avanzati, abbiamo sistemi di agricoltura di precisione collocati, installati nelle attrezzature stesse e abbiamo addirittura una parte che affaccia un po' sulle nuove prospettive, quelle della cosiddetta agricoltura 4.0 che utilizza i droni, che utilizza sistemi informatici molto evoluti per il monitoraggio delle lavorazioni e per il controllo di tutti i parametri ambientali nei quali proprio si svolge l'attività agricola.